Hello guys, welcome back to the football manager, I'm in the NBA, I have a cousin è partita la stagione 24-25 e qui nel calendario vedete già i risultati delle amichevoli tutte vittorie, non fatevi ingannare ad esempio della vittoria contro la Juventus per 2-0 perché comunque la Juventus era infarcita da giocatori del settore giovanile o comunque della next gen quindi ecco questa vittoria lascia un po' il tempo che trova secondo me però comunque devo dire un ottimo precampionato, soprattutto il primo turno di The Vepo Calc ovviamente ho giocato off game ma semplicemente perché contro l'Holdenburg era inutile farvelo vedere infatti comunque la partita è finita ben 11-0, li abbiamo dominati quando stavo registrando ovviamente la partita è durata 15 minuti, soltanto quella perché ogni secondo è un'azione comunque, vi do il mio bentornato e benvenuti sul canale se non siete già venuti iscritti supportate i miei progetti podcast e anche seguitemi su TikTok vedete qui che è uscito il calendario per la stagione 24-25 si inizia come l'anno scorso un po' bomba, l'anno scorso abbiamo avuto la prima giornata al Bayern Monaco quest'anno, questa stagione è la seconda, comunque iniziamo con lo Schalke 04 ma in questo episodio vedremo soltanto la partita contro lo Schalke 04 perché siamo all'11 agosto manca ancora un pochino per il mercato ma ho fatto dei movimenti molto importanti filosofia generale comunque, ripartiamo dal 4-2-3-1 e sono andato a fare una bella analisi dei rolli un po' più carenti, faccio un esempio, a centrocampo fondamentalmente non abbiamo mai avuto per tutta la stagione un vice Gurnaduat, quindi un incontrista ma semplicemente perché la squadra è partita per un alto schema di gioco, quindi ci siamo trovati con tanti centrocampisti centrali mentre prima ne giocavano 3 ma ne erano 6 in rosa, poi ne giocavano 2 e con 6 in rosa era un po' un problema e di tutti questi fondamentalmente l'unico centrocampista centrale che poi ho utilizzato come regista offensivo come centrocampista offensivo è stato Van de Beek, quindi insomma adesso però andremo a vedere uno a uno i giocatori ovviamente in primis quelli ceduti perché non voglio spoilerarvi gli acquisti quindi adesso iniziamo questa piccola carrellata delle cessioni la più ingente è lui, Jeremy Frimpong ceduto al Manchester City per 34.5 milioni circa avrei potuto farci di più, ovviamente a questi vanno aggiunti se non erro qualche bonus ma il giocatore voleva un nuovo contratto, una cifra spropositata per quello che comunque è il giocatore nel senso contro di palla 11, cross 11, non è migliorato per niente, passaggi 11, sì le fisiche sono ottime però a me servono, serve un terzino destro che insomma faccia differenza quindi lui voleva un aumento, voleva andarse e quindi abbiamo accettato l'offerta del City per Frimpong un altro giocatore del quale vi avevo parlato e vi avevo detto che aveva valutato accessione è appunto Aminad Lee che ormai ha 24 anni, ha giocato poco la scorsa stagione e che si è trasferito al Darmstadt se non erro per 2.6 milioni infatti siamo andati più o meno pari rispetto agli 8 milioni pagati al Tolosa ma vedete che ha giocato veramente poco un giocatore che l'avre sfruttato come mezzala ma nel centrocampo a 2 con un mediano registro alletrato lo vedevo veramente poco idem come esterno quindi nonostante le buone caratteristiche ho deciso di monetizzare anche se poco devo dire altro centrocampista che l'anno scorso ha trovato poco spazio un ADM Amiri diciamo che possiamo permetterci queste cessioni ma per il semplice fatto che dati tutti i giocatori che possiamo registrare insomma avere un minimo di giocatori che shoot in vivaio non è per niente difficile quindi ecco questa cessione anche a cuor leggero un giocatore che tra pochi mesi compierà 28 anni che l'anno scorso ha giocato veramente poco 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 infatti 9 partite, un assist ma complessivamente ha segnato 18 partite, 2 gol in tutte le competizioni però insomma anche lui era difficilmente collocabile sia come mediano che come trequartista poi Virzo, Van de Beek ed era un pochino un elemento a sé quindi ho deciso appunto di liberarmi dell'ingaggio anche perché la dirigenza mi diceva ehi ciccio liberati di Amiri perché non di tanto però comunque ti incidi sull'ingaggio e l'ho detto sai che è? lo do via 2.4 milioni alla Sampdoria ultima cessione a titolo neroso Kerem Demir Bay che è finito all'Wolverhampton per 2.1 milioni un giocatore di 31 anni che inizialmente aveva detto voglio una nuova sfida poi l'ho convinto a rimanere dicendo guarda possiamo vincere il campionato quindi rimani però poi che è successo? durante le partite era sempre nervoso apprensivo non era sereno nonostante lui avessi detto ok se non vinciamo il campionato me ne vado anche perché ho voglia di una nuova esperienza da tanti anni sto qui e quindi voglio fare voglio intraprendere una nuova avventura contando appunto che nervoso apprensivo di qua e di là allora no l'ho deciso di cederlo anche lui un ingaggio era molto importante era tipo sui 4.5 milioni di euro lordi e anche in questo caso dirigenza mi diceva e ciccio guarda che qui questo pesa tanto sull'ingaggi e contando che anche l'anno scorso ha giocato tanto però comunque dovevo adattarlo a destra e lui era un mancino in più non era sereno allora ho detto sai cos'è? facciamoli fare questa nuova esperienza e via è vero 2.1 milioni sono veramente pochi il massimo che sono uscito da granellare però ripeto un giocatore di 31 anni con un ingaggio molto pesante aveva e gioco forza ho dovuto per forza accettare ora vediamo le sessioni che ho fatto in prestito e vi vado ovviamente a spiegare il perché l'ho effettuato il primo è lui Kenny Hildiz che l'anno scorso ha anche giocato abbastanza in totale ha fatto 18 partite però comunque deve ancora crescere e ha bisogno di giocare da titolare io purtroppo non potevo garantirgli una titolarità anche perché quando ha giocato non è stato molto diciamo fruttuoso come giocatore però è un grandissimo talento ho ricercato anche dal Manchester United che voleva prelevare a titolo definitivo alla fine ho optato per un prestito nella Zvateriga se non erro quindi nel Cars 2 potrà giocare titolare numero 10 e soprattutto spero che giochi tante partite anche perché sul 10 ci punto tanto ah mi ero scordato avevo anche ceduto Lunev il terzo portiere all'Akmat a costo 0 altra cessione in prestito e sarà il nuovo numero 9 della Dinamo Dresda Simon Dainzer che nonostante sia molto giovane classe 2007 17 anni con lui anche segnato non potevo garantirgli anche per lui una presenza fissa in prima squadra quindi tanto tenerlo e poi sbattono i giovanili tanto hanno in prestito quindi la Dinamo Dresda ha promesso sulla carta un un impiego del giocatore come titolare fisso e quindi vediamo spero che Danzer torni da noi con le statistiche molto più alte ora però dobbiamo andare a vedere gli acquisti il primo è lui Emerson Royale che va a sostituire Frimpong sulla fascia destra una spesa veramente importante perché se non erro sono 45 più bonus sui 50 milioni di euro però è un giocatore veramente veramente interessante l'anno scorso ho fatto una stagione discretina al Tottenham ma l'ho preso per le sue statistiche e sono nettamente superiori rispetto a quelli di Frimpong nonostante quell'anno in più quindi voglio puntare su di lui ottime fisiche ottime mentali anche a livello tecnico comunque ha più cross ha più contrasti ha più controllo palla anche rimesse lunghe insomma è un giocatore che per come interpreto io il ruolo di terzionistificante con compiti scusate supporto è colui secondo me è veramente il top poi eventualmente qualora mai volessimo creare anche un modulo con il fase 3 lui può tranquillamente fare il quinto di destra o il quarto di destra a seconda di quanti attaccanti iscriviamo secondo acquisto Jonathan David che sarà il titolare e si alternerà un po' con Diaby anche per lui una spesa molto 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 ingente perché sono 32 milioni e se non erro con i bonus va a finire nel 37 ma vi ricordo che comunque ci avevano dato la dirigenza ci aveva dato come budget di trasferimenti 75 milioni quindi tra le cessioni e quello che ho investito con le varie rate bonus e queste robe qui mi sono riuscito a caparare questo giocatore ovviamente poi devono portare risultati sportivi perché sennò poi i soldi non rientrano e guardate anche qui a Lille l'anno scorso 34 partite 11 gol e 2 assist quindi un giocatore che nonostante fisicamente 1,77 ripiazzati colpi di testa contrasti ma non è questo a cui serve Jonathan David guardate la finalizzazione 14 l'accelerazione la velocità io ovviamente andrei a schierarlo qui e nonostante lui sia destro naturale e con un piede sinistro comunque forte lo schierò come all'invertita quindi Lose e David faranno saranno le M2 all'invertite e lui devo dire che mi ha soddisfatto molto nel precampionato ed ecco qui il vice con la Duat anche per lui una spesa molto ingente se non erro 25 milioni più o meno sui 27 28 totali conor Gallagher plevato dal dal Leicester no dal Chelsea ragazzi la memoria è quella che è dal Chelsea un giocatore di 24 anni che ha delle caratteristiche mentali e fisiche eccezionali e ottime anche tecniche io ovviamente lo metterei qui come mediano incontrista comunque contrasti 13 lo sto allenando in quel ruolo e vediamo un pochino come svilupperà anche perché lui è vero sì che mi farebbe il mediano incontrista ma comunque ha anche ottime skills che vanno a completare quelle del mediano incontrista quindi c'è l'aggressività ok quindi che mi può recuperare tanti palloni ma guardate anche la determinazione l'impegno il senza palla comunque un giocatore veramente tanto tanto importante e su di lui ci punterò quindi ad ora avere un Gallagher un Gurraduat come che si alterna lo di mediano incontrista un Ampadu che già ve l'avevo annunciato nelle puntate scorse perché l'avevamo preso a zero dopo la fine della sessione di mercato di gennaio 2023 e d'altra parte avere un Parasios e un altro giocatore interessante che tra poco vedrete secondo me è un buon rooster per il nostro centrocampo a due e lui appunto è il nostro nuovo numero 10 Nicolò Fagioli prelevato per una decina di milioni dalla Juve sia un 75 neanche tanto comunque l'anno scorso è giocato soprattutto nel next gen ma a me non me ne frega niente perché guardate che caratteristiche interessanti quindi ottimo per fare il nostro registra detrato ma comunque in fase di emergenza può essere anche usato come tempo artista beh su di lui punterò veramente tanto e ora il primo dei due talentini che mi sono assicurato Antonio Foti che ho prelevato per circa 3 milioni di euro dall'annover e guardate qui ragazzi per un 2003 che giocatore è può crescere veramente tanto e anche lui lui mi pare che abbia giocato nella partita contro l'Holdenburg in valevole appunto per la la Depokal il primissimo turno se non erro ma si è andato anche doppietta un giocatore che adesso è infortunato per qualche giorno però ragazzi un giocatore anche lui duttilissimo io l'utilizzo un po' per ora come riserva da riserva in questo ruolo ma soprattutto perché ha optato anche per lui per un motivo perché Virz ha ricevuto l'offerta dell'Arsenal io per due volte ho rifiutata però chi lo sa magari saremmo costretti a dire addio a Virz perché magari mi fanno fare un'offerta rinunciabile a fine mercato e cosa facciamo magari dopo negli ultimi due giorni che magari gli affari non si fanno più mi faccio trovare un po' così allora Foti è il primo dei due giovanissimi tecoartisti che ho preso e il secondo talentino è lui Oscar Jwartau che conosco in real life è stato riprodotto molto bene anche nel gioco è un 2006 preso per 1.4 milioni che poi con i vari bonus le varie presenze può arrivare fino a 2.4 milioni un giocatore che può crescere ancora tantissimo che anche lui ha giocato discretamente bene nel precampionato che può fare diciamo il doppio ruolo non tanto il triplo di punta e di trequartista molto fisicato perché 186 cm per un 2006 è veramente interessante quantomeno per un giocatore di 18 anni in game di ingaggio veramente poco e lui appunto con Foti faranno un pochino i giochi dell'attacco perché magari a volte può mancare un esterno a volte può mancare una punta a volte può mancare un trequartista e staremo a vedere ma su di lui veramente punto io non so se l'anno scorso ha giocato comunque 5 partiti un gol con il Brunby era ricercato anche dal Porto ma dopo tutto ce lo siamo accaparati noi insomma ora però devo dirvi anche una cosa importante qui vedete tanti giocatori presi giovanissimi Ripani citi ticeri turco ho sfruttato il fatto della juventus under 23 e della juventus under 19 diego sia dal milan un uno svincolato hoisen però nel gioco non è devo dire rappresentato benissimo e poi vabbè è tarampado che fa discorso a sé ma perché io ho preso tanti di questi giocatori perché una sorpresa è successa prima finita la stagione 23-24 hanno detto vi è la possibilità di creare un Bayern Leverkusen 2 che parteciperà alla regional liga prima se vi ricordate vi era soltanto la prima squadra e l'ander 19 ora però abbiamo anche il Bayern Leverkusen 2 ora vi faccio vedere la rosa e perché ho dovuto prendere questi giocatori per rimpolparla perché poi era formata da una decina di giocatori over una certa età over 19 ma poi con tutti i Nugent che comunque erano tutti 15-16 anni era una squadra completamente scoperta allora ho deciso di acquistare un po' di giocatori ecco perché ho preso giocatori tra 18-18 anni 17-19 anni che mi possono fare esperienza nel Bayern Leverkusen 2 quindi trovate appunto Zirze ma anche Alstenberg che è un centrocampista offensivo un Nugent molto interessante Turco si ha Cherry anche Hodelmoser se non erro è anche interessante sì più o meno però ripeto secondo me lui è tanto interessante questo giocatore può crescere veramente tanto ce lo teniamo noi ho già rifiutato un po' di prestiti però ecco perché ho fatto queste scelte ci servivano giocatori per il Bayern Leverkusen 2 e contate anche che ho fatto un atto di fede nell'ultima puntata se non erro ho detto rimarrò il Bayern Leverkusen a meno che non arrivino proposte da top club tipo la Juve tipo il PSG tipo il Milan il fatto sta che il Milan si è fatto sotto per me ma io sono rimasto qui perché in primis perché nel progetto seconda cosa perché andare in una serie A così povera e magari perché poi ho visto la squadra del Milan adesso ve la faccio un attimo vedere ecco qui se andiamo nella squadra del Milan al di là che mi ritrovo Malik Chao ma guardate qui c'è di giocatori interessanti non ne ha tantissimi sia a Mignan a Tomori a Kalulu a Teo Hernandez a Chao a Pobega a Tonari però guardate in attacco cioè a parte Leao uno di quei giocatori che dal momento all'altro potrebbe anche andare via non ho nessuno quindi se io devo andare in una fosse dovuto andare in una squadra per poi rifondarla e magari avere qui 16, 20, 30 milioni di euro per rifarmi un attacco perché mai anche la panchina di Presinger Man era libera però non mi convinceva la squadra e ho detto vabbè provisco di rimanere un altro anno e vedere come si sviluppa si sviluppano i giovani della nostra squadra comunque questo dovrebbe essere tutto se non erro vi ho detto tutto se mi viene in mente qualcosa altro ve lo dico poi però ora vediamo la formazione che scendere in campo contro lo Schalke 04 quindi prima partita ufficiale l'unica dell'episodio e poi dopo proseguiamo con i nostri canonici tre episodi o magari la prossima ne faccio due quali dovessero essere altre novità di mercato che mi porterebbero ad allungare ancora il video e questa è la formazione che scendere in campo contro lo Schalke 04 Fructel Royale Ta Kivior Aude Fagioli Gurnaduat David o David Van de Beek Lozek e Simeone altre due cose che mi ero scordato di dirvi e che ovviamente sapevo che non è stata scordate allora in primis il discorso di Tapsoba che qui non gioca oggi perché è squalificato ma il Lipsy aveva fatto un'offerta di 39 milioni che era pari alla sua clausola ecissoria due volte ha fatto l'offerta due volte Tapsoba ha rifiutato l'offerta e non voleva al contempo rinnovare il contatto con me per eliminare la clausola quindi ci ho anche un po' discusso col giocatore ma è la seconda volta ripeto che rifiuto l'offerta e quindi presumo che ci otterremo anche per questa stagione ovviamente a me fa piacere perché Tapsoba è il nostro difensore rigorista veramente un giocatore ottimo poi io mi ero anche adoperato nel frattempo ho detto metti caso di KDC avevo visto Perscurs che però aveva appena rinnovato col Torino avevo visto Botman che era messo cedibile dal Newcastle però un mancino abbiamo già tanti mancini quindi niente è andato così correlato al discorso di Dainzer io voglio puntare quest'anno anche su Iker Bravo che l'anno scorso è stato in prestito al Baleares ha giocato 22 partite un gol cioè veramente poco poco però insomma guardate le caratteristiche secondo me può crescere veramente tantissimo se gioca con noi farà la riserva di Simeone di Colombo però insomma un 2005 con noi ci può tranquillamente stare ora però andiamo a vedere la formazione dello Schalke il tecnico Farke schiera Yusufu Paslak Gremle Cozza Becker Krauss Freak Aydin Bozdogan Oedrago e Bebu leggendo Cozza che è un cognome italiano mi viene in mente che ho cercato anche di acquistare altri due giocatori italiani o quanto meno tedeschi vale a dire Chiarodia che però purtroppo sul gioco è rappresentato non troppo bene e tre soldi attaccanti però mi chiedevano 11 milioni e già abbiamo bravo Simeone Colombo ci metto un altro attaccante che costa 11 milioni sarebbe veramente stata una follia assurda e si comincia subito bene infortunato Fagioli Krauss per Greml Greml bel pressing di Simeone che riva prima sul pallone o quanto meno gli ruba però è solo il nostro Simeone temporeggia Lozek Lozek per David David e batte Yusufu quindi anzi Jonathan David perché David mi viene in mente già lui David no Jonathan David batte Yusufu è il primo gol della stagione per lui o quanto meno è solo il primo gol in Bundesliga comunque Uedrago per Flick Flick indietro per Cozza Cozza c'è il pallone per Krauss Greml Greml per Pazlak Pazlak che scatta sulla destra loro uh bella interventualità però purtroppo è in Cipurga ah beh oddio statistiche non ottimali quindi mani sui fianchi serve più possesso qua vado anche un attimino a vedere le varie impostazioni faccio anche crossate di prima anzi neanche perché comunque abbiamo Simeone che non è che sia affrontata difesa palla al piede e andiamo così angolo per loro Bozdogan Flick stacca palla di poco fuori punizione per noi chi tira Van de Beek parte traversa e te pareva si ricomincia anche qui it's time for subs allora a me Simeone non sta piacendo sta partita mettiamo Colombino Gura ancora Paslak Paslak per Griml bravo Ampadu e David prende il pallone Ampadu ora gestisce l'azione torno indietro per Ta Ta temporeggia Kivior ancora per Ampadu Ampadu potrebbe essere anche lui molto diciamo utile come giocatore per la sua duttilità Paoligno Beldeming sulla sinistra però rientra Gallagher bella palla per Colombo e Colombino la mette dentro e non è fuori gioco perché è partito da dietro e bel passaggio di Gallagher questo insomma appunto l'incontrista ma dei piedi buoni anche che farà Bebu andrà sul fondo andrà sul fondo e va sul fondo giocato inutile giocato inutile bella parata però di Fructel ripartiamo noi ripartiamo noi bravo David bravo David ma che cazzo però anche Van de Beek infortunato infatti palla fuori fuori Van de Beek dentro Virz già si comincia con due infortuni ottimo direi statistico un po' meh però diciamo che ci sta il 2 a 1 va per ora vediamo un pochino perché vabbè braccia distese ben fatto vediamo tutti contenti l'abbiamo visto la scorsa stagione però ora vediamo che si sono fatti i fagioli e Van de Beek bene un mese e mezzo fuori e due o tre settimane fuori che palle già si comincia bene con questi infortuni ora vado un po' avanti fino alla prima partita della partita del Bayern e vedremo se ci sono qualche novità di mercato e prima di vedere le partite alle quali andremo ad assistere la prossima puntata qualche novità di mercato c'è stata perché in primis ta mi ha rotto i maroni cioè nel senso stavo guardando il suo profilo non mi ha fatto niente però a me quel colpo di testa 11 quel concentrazione bassino non convince per nulla quindi sto tentando di cederlo però ad ora nessuna offerta insomma però ho trovato un profilo che potrebbe essere molto interessante come riserva di tapsoba anche perché non si sa tapsoba se rimane o meno quindi per una cifra pari a 2.8 milioni di euro più qualche bonus mi sono assicurato lui o Zankabak a me il difensore deve colpire di testa cioè se mi arriva un cross e comunque si sa che il football manager va molto con gli esterni non posso avermi uno che ha 11 in colpi di testa mi deve intervenire deve avere il diciamo la preponderanza a livello fisico e di testa e comunque lui ha 10 centimetri di d'età però comunque più o meno se ricordo male se non ho visto male prima però ha 16 in colpi di testa quindi voglio dire eh in elevazione vediamo quanto ha 14 quindi veramente un bel valore e niente quindi questo in più Bucker ha ricevuto un'offerta all'Ajax per 8.5 milioni di euro eh tra i quali o meglio misti tra parte fissa e bonus non è un valore alto Bucker è un ottimo giocatore l'unica cosa è che sul gioco se comunque non hai dei valori base molto alti diciamo così il gioco deve diventare forte quanto ti pare che però non arriverà mai al punto di essere considerato ai grandi livelli europei quindi purtroppo già il valore era sui 9 10 milioni 11 milioni ma hanno offerto offerte 8.5 destinazione preferita torna pure all'Ajax e sto cercando di prendere Maximilian Mitterstedt difensore appunto elerta Berlino che ha dei discreti valori punto su di lui perché in primis perché ha quell'attitudine offensiva che potrebbe servirmi seconda cosa voglio puntare su Aude in più avendo un 2003 e anche un altro motivo che mi ha portato a cedere Bucker volevo un terzino un po' più esperto cioè nel senso eventualmente Mitterstedt potrebbe essere non dico una chioccia però comunque potrebbe affiancarsi ad Aude potrebbe insegnare di qualcosina un Bucker non lo so contando che Bucker è tra anni più piccolo rispetto a Mitterstedt quindi purtroppo le opzioni anche di difensori sinistri un po' più esperti ce ne erano poche avevo accarezzato l'idea di Sedko Lassinac però valori un po' scoperti scuovate valori un po' coperti di cross mi dava 8-11 allora a me non me ne fregava niente cioè un esperto che poteva insegnare ad Aude però con quei valori bassi in cross io voglio gli stendi che mi crossano quindi detto ciò la prossima puntata andiamo a vedere le partite contro Bayern Erta Berlino e Colonia e quindi sapremo anche finito il mercato se Mitterstedt arriverà se partirà Bucker se dovessimo uscire delle offerte per Tà e vedremo eventualmente come va a rendere anche Kabak vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi